La storia non arretra, vado avanti, il medico sospeso dall'ASREM per le frasi sulla sanità pubblica, prosegue la sua battaglia, sono pronto a rivolgermi alla Corte di Giustizia europea, ha detto. Opere pubbliche per 82 milioni di euro, gli investimenti del comune di Termoli fino al 2019, in corso l'appalto per riqualificare il parco cittadino e il tunnel sotto il centro storico. Prorogati i termini per l'accoglienza dei migranti, le domande per lo SPRAR potranno essere presentate dai comuni entro il 5 maggio, intanto il comitato antifascista definisce vergognosa la scelta del Consiglio Comunale di Isernia. Giovani e lavoro, le occasioni in Germania saranno illustrate a Campobasso, Pozziglia e Termoli sono le opportunità dell'Eures, destinate ai giovani, si ripropone il tema dell'emigrazione all'estero. Bocce a Frosolone vincono i campioni di Serie A, Santoriello batte Scolletta e si aggiudica la tredicesima edizione del trofeo, nel Memorial Lelio Pallante, la parata dei 32 campioni della disciplina. Buon pomeriggio, un saluto dalla redazione di Telemolisi, edizione le 14 del nostro telegiornale e ancora in copertina il caso Pastore, il medico del veneziale di Isernia, sospeso dall'ASREM per tre giorni, ricorderete, per via delle sue dichiarazioni sulla sanità pubblica, una decisione che ha provocato un seguito polemico, oggi il medico nella sede della CGL di Campobasso ha incontrato i giornalisti, vado avanti, non ho nessuna intenzione di arretrare, sono disposto ad andare fino alla Corte di Giustizia Europea, ha detto. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Un provvedimento ingiusto che ha come unico obiettivo quello di tappare la bocca a chi è fuori dal coro e contesta senza remore la gestione della sanità pubblica nel Molise. Così la CGL, i comitati e le associazioni che si battono in difesa degli ospedali hanno bollato la sanzione adottata dall'ASREM nei confronti del medico del pronto soccorso del veneziale di Isernia, Lucio Pastore. Una decisione non ancora comunicata ufficialmente al diretto interessato, ma che, come era prevedibile, ha provocato un vespaio di polemiche. A Campobasso, nella sede della CGL, la conferenza stampa a sostegno del medico è in difesa del diritto di espressione e contro il regolamento interno dell'ASREM che impone ai dipendenti il silenzio, in particolare su temi scottanti come è quello della sanità in questo particolare periodo. Ma Lucio Pastore non ci sta. È un significato di avvertimento, cioè colpirne uno per colpire tutti. Ma essenzialmente ci sta qualcosa di più profondo. Qui si va contro la Costituzione, contro l'articolo 21 della Costituzione che ci dà libertà di parola. Se non si reagisce e la forza della reazione deve essere proprio negli atti che io sto portando avanti, io arriverò fino al Consiglio d'Europa se necessario, quindi se non avverrà questo tipo di reazione noi corriamo dei rischi seri per la libertà in senso lato per tutti. L'assurdo è che io ho fatto un insieme di considerazioni in difesa della sanità pubblica, quindi per difendere quello che è l'ASREM e che cosa mi succede? è che l'ASREM mi mette sotto accusa. Quali poteri forti sottendono la gestione di questa ASREM per cui dobbiamo distruggere il pubblico per privatizzare? Che cosa sta succedendo in questa regione? Quali sono i criteri per cui chi difende l'interesse generale deve essere messo sotto accusa perché alcuni interessi particolari devono prevalere? Ma la solidarietà che io ho ricevuto è stata qualcosa di commovente, ma commovente per quanto riguarda la gente. Io ho avuto migliaia, ma migliaia di attestati di stima che da un punto di vista umano mi hanno davvero commosso. Dottore, come si sente? Allora, ho avuto un momento effettivamente di defiance quando ho appreso, leggendo delle locandine dei giornali che era stato preso questo provvedimento. La meschinità unica perché è stata completamente violata la legge della privacy. Ma poi mi sono reso conto che questo è un atto di debolezza e non di forza, per cui vado avanti in tutte le sedi e in tutti i modi possibili. Occorre chiarire i rapporti tra Antonio Di Pietro e il Partito Democratico e la coalizione di centro-sinistra e tra Antonio Di Pietro e il governatore Frattura. Lo chiede l'esponente del Comitato Orlando, Pino Libertucci, che ha richiamato una intervista nella quale lo stesso Di Pietro conferma il sostegno a Frattura. Dichiarazioni che hanno indotto Libertucci a sollecitare la convocazione di una conferenza programmatica per fare chiarezza all'interno del PD e nella coalizione del centro-sinistra. Di Pietro ha detto Libertucci che dopo il suo riavvicinamento al Movimento di 5 Stelle dovrebbe spiegarci da che parte sta a concluso. Parliamo ancora di sindacato e di CGL perché la CGL smorza i toni sull'ottimismo manifestato da più parti per quanto riguarda l'area di crisi. Sentiamo Tonino Danese. La CGL sollecita la Regione a consegnare agli attori del tavolo tecnico il piano di riconversione e riqualificazione industriale approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il sindacato chiede di poterlo leggere per esprimere le sue valutazioni. Al tavolo è stato illustrato sommariamente l'approvazione del documento, ha spiegato Franco Spina della Segreteria regionale della CGL. Non risolve certo la complessa emergenza che riguarda la piena attivazione degli strumenti di ripresa per l'area di crisi. Secondo il sindacalista non sono dettagli quelli riferiti alle singole voci riguardanti le risorse appostate o da appostare sulle politiche attive passive o sugli interventi finanziari previsti per le imprese e le infrastrutture. Fermo restando il totale delle risorse annunciate per le politiche attive 10 milioni, ha continuato Spina, è fondamentale esplicitare le modalità di attribuzione per singolo bandomisura. Per l'esponente della CGL, considerata l'ampia platea coinvolta, le risorse appostate sono insufficienti e occorrerà individuarne altre in aggiunta. Insomma, ha smorzato i toni entusiastici degli ultimi giorni, osservando ancora una volta che l'obiettivo del riconoscimento di area di crisi complessa è ricollocare il personale e rilanciare l'occupazione riattivando la produzione. A due anni dalla fase di avvio delle procedure, ha dichiarato Franco Spina, siamo ancora alla definizione dell'accordo complessivo. Questo significa che serve onestà nel dire ai tanti lavoratori che attendono speranzosi che i tempi per l'effettiva ripresa di occupazione saranno ancora lunghi, servono ancora anni. Intanto la CGL vuole sapere come si tengono in vita le attività che vedono oggi i lavoratori in cassa integrazione e come non disperdere professionalità in mobilità, chi è in naspie, e chi non ha alcun sostegno. In questo scenario, sempre secondo Franco Spina, bisogna preoccuparsi di ottenere dal Governo nazionale un prolungamento delle politiche a sostegno del reddito, almeno fino all'effettiva ripresa delle attività produttive e le altre regioni sono già impegnate sul tema. Poi ha ribadito che le risorse per le politiche attive e passive o di accompagnamento si basano sul censimento preciso delle persone coinvolte e interessate e ad oggi ancora non si chiude la profilazione dei lavoratori dell'area di crisi. Oltre alle dichiarazioni sui numeri generali, ha rimarcato il sindacalista della CGL, non si conoscono quante e quali siano le manifestazioni di interesse presentate. Nel dettaglio quante risorse sono previste nelle varie ipotesi e l'ammontare dei finanziamenti richiesti. Occorre accelerare, ha concluso Franco Spina, e definire tutte le procedure e gli accordi entro qualche mese. Si è già fortemente in ritardo. Intanto la crisi continua a mordere la denuncia dell'Associazione degli Allevatori che rischia la chiusura. Sentiamo. L'appello è rivolto al Presidente della Regione Frattura, al Presidente del Consiglio Cotugno, ai componenti della Giunta regionale, ai consiglieri regionali, all'Europarlamentare Patriciello, ai senatori Rute e Di Giacomo, ai deputati Leve e Venitelli, ai presidenti delle province di Campobasso e Iserni, ai presidenti degli ordini dei veterinari delle due province, alle organizzazioni e ai sindacati di settore. L'obiettivo è scongiurare la chiusura dell'Ara, l'Associazione degli Allevatori del Molise. Il 28 aprile è in programma l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e una straordinaria per la nomina di un liquidatore. Gli allevatori molisani, con una nota ufficiale, chiedono il rinvio dell'Assemblea e l'apertura di un confronto nelle sedi opportune con gli allevatori, il personale e l'attuale commissario dell'Ara, perché l'Ara, aggiungono, è un patrimonio non solo degli allevatori, ma di quanti operano nel settore zootecnico. La Regione, nel corso degli anni, ha sempre garantito l'erogazione di fondi che hanno aiutato le aziende a svilupparsi, innalzando produttività, benessere degli animali allevati e rispetto della natura in genere, imprescindibile per un'azoto e cnia sostenibile. Le nostre aziende, si legge nella nota, hanno avuto la possibilità di crescere con la valorizzazione delle nostre eccellenze di prodotti lattiero caseari e di carne. Abbiamo contribuito a generare quell'orgoglio che ogni molisiano manifesta dinnanzi ad argomentazioni gastronomiche, ma non solo. L'Ara è stata in prima fila insieme al Corpo Forestale dello Stato e all'Asrem nel fronteggiare le emergenze del momento. La chiusura dell'Ara porterebbe inoltre ad abbassare la saracinesca del Laboratorio Analisi del Latte, lasciando tutti gli allevatori molisani, nonché i consumatori privi di un punto di riferimento efficace. Non ultimo il problema occupazionale. L'Associazione ha in organico 16 lavoratori che si ritroverebbero da un giorno all'altro senza il posto di lavoro. Il Comune di Termoli ha annunciato il proprio piano per quanto riguarda le opere pubbliche. 82 milioni di euro, la somma prevista per la spesa fino al 2019. ci dice i dettagli, Emanuela Iorio. Un piano triennale per le opere pubbliche di Termoli da 82 milioni di euro è stato approvato dal Consiglio Comunale. Dal 2017 al 2019 progetti che vengono programmati e per cui in alcuni casi si cercheranno fondi, ma che non è detto vengano realizzati, soprattutto se non si troverà la copertura. Diverso il discorso per l'anno in corso, con molti lavori che sono stati già assegnati e alcuni sono anche già iniziati, come ad esempio quelli di riqualificazione del Parco Comunale per 289 mila euro, ma sempre per il 2017 ne sono previsti altri 800 mila per la sistemazione degli impianti sportivi dell'area verde intitolata Girolamo-La Penna. Due milioni di euro sono previsti per l'inizio dei lavori per realizzare il tunnel che collega Porto a lungomare. Un milione lo metterà la ditta De Francesco e un altro la Regione. Nei prossimi due anni sono previsti altri contributi fino ad arrivare alla somma di 19 milioni di euro. Per quest'anno sono stati stanziati invece 1 milioni e 519 mila euro, di cui 300 mila li ha messi la Regione per migliorare il sistema fognario e di depurazione. È di 500 mila euro invece la spesa programmata per collegare la strada che costeggia la ferrovia, via Dante e piazza Garibaldi. Stessa somma per il completamento di una batteria di loculi al cimitero e per la riqualificazione di strade e marciapiedi. I termolesi diranno finalmente addio anche all'ultimo semaforo rimasto in città, quello di piazza del Papa, dove verrà realizzata una rotonda per 220 mila euro. Un'altra è prevista anche in Viale San Francesco, nei pressi del Santimotio. Rimandata invece al 2018 la sistemazione delle strade di lottizzazione, tra le quali c'è anche la martoriata via Udine. Per il 2018 e per il 2019 ci sono interventi ambiziosi, che però, come detto, non è sicuro che avranno la copertura economica necessaria. C'è ad esempio la ciclovia che da Riovivo arriva alla foce del Biferno e poi un'altra che dalla torretta arriva a Petacciato. Poi è previsto un project financing per la riqualificazione dell'edificio mai terminato in via Sant'Elena. Quasi 10 milioni previsti per il consolidamento dei dissesti e per evitare i crolli e frane, in particolare nella zona del Sinarche a Riovivo Marinelle. Per il 2019 c'è anche in progetto la riqualificazione dell'area ex viadotto foce dell'Angelo per 8 milioni di euro e ancora 4 milioni per il sistema dei parchi urbani. I carabinieri di Isernia hanno arrestato un quarantenne di Sant'Agapito che aveva l'obbligo di firma in caserma, che oltre a non ottemperare alla misura cautelare ha commesso anche altri reati contro la persona per il quale nella mattinata di oggi è scattato l'ordine di custodia ai domiciliari. Ed è stato prorogato fino al 5 maggio il termine per consentire ai comuni di aderire allo SPRAR, cioè all'accoglienza dei migranti. Intanto è polemica ancora Isernia per la decisione del Consiglio Comunale di dire no definita questa scelta vergognosa dai comitati antifascista e antirazzista. Sergio Di Vincenzo. I recenti episodi di cronaca hanno indotto diversi comuni della provincia a fare marcia indietro ma il prefetto di Isernia, Fernando Guida, è comunque fiducioso visto che c'è ancora una settimana abbondante per incrementare ulteriormente il numero di adesioni allo SPRAR, la rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il termine per presentare la domanda di concessione del finanziamento è stato infatti prorogato al 5 maggio e dunque gli enti locali hanno ancora qualche giorno per fare le opportune valutazioni. Per i favorevoli allo SPRAR aderire alla rete conviene perché ciò consente di definire il numero delle presenze nei vari comuni mettendo così fuori gioco quei centri d'accoglienza gestiti da privati che stanno spuntando ovunque come funghi. Al tempo stesso questi progetti permettono la gestione diretta di cospicui finanziamenti e di attuare iniziative concrete per l'effettiva integrazione come dimostra il recente caso di Castel del Giudice dove le famiglie ospitate avranno l'opportunità di lavorare nelle cooperative impegnate nel campo delle coltivazioni biologiche. Ma non tutti la pensano allo stesso modo c'è chi definisce lo SPRAR solo un blef e chi senza troppi giri di parole dice no all'accoglienza senza se e senza ma. Certo è che la recente bocciatura da parte del Consiglio Comunale di Sernia ha fatto discutere e continua a far discutere spaccando l'opinione pubblica. Celeste Caranci, portavoce del Comitato Antifascista e Antirazzista del Molise ha definito vergognosa la decisione presa a Palazzo San Francesco. È una questione che nei prossimi anni avrà ancora più importanza e dobbiamo preparare, dobbiamo prepararci tutti dobbiamo preparare la nostra società ad essere accogliente ad affrontare questo problema in maniera razionale non come è stato fatto purtroppo anche a Di Sernia nelle ultime settimane con un Consiglio Comunale che in maniera vergognosa a mio avviso non ha accettato la proposta di costituire uno SPRAR che è il migliore modo al momento che abbiamo per accogliere questi profughi, per accogliere i nostri fratelli. Siamo a Di Sernia per parlare però del Consiglio Provinciale c'è un avvicendamento deciso in qualche modo dal TAR sentiamo Enzo Di Gaetano. Il TAR lo aveva stabilito con propria sentenza emessa alla fine del mese di marzo e ora il Consiglio Provinciale recepisce quando stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale predisponendo così l'ingresso nel Consiglio di Roberto Di Pasquale. La questione al primo punto dell'ordine del giorno della convocazione straordinaria della seduta consigliare che si svolgerà giovedì. A seguito della tornata elettorale, Roberto Di Pasquale primo dei non eletti della lista Insieme per la provincia di Sernia aveva proposto ricorso al TAR in seguito all'annullamento di una scheda recante il suo nome. Scheda annullata poiché, come evidenziato nel dispositivo del TAR il nominativo di Di Pasquale era stato scritto al di fuori del riquadro della lista votata in stampatello e a caratteri di grande dimensione cosa che per l'ufficio elettorale era stata interpretata come possibile segno di riconoscimento ipotesi poi bocciata dal Tribunale Amministrativo che ha decretato la regolarità della scheda scheda che col voto ponderato ha attribuito a Di Pasquale il punteggio utile a entrare in Consiglio al posto di Nicolino Colicchio. Resterà da capire ora quale sarà l'orientamento circa l'attribuzione delle deleghe che erano state assegnate a Colicchio ossia quelle di ambiente e uso del territorio aree naturali e parchi agroindustria, polizia provinciale e vigilanza venatoria deleghe che ora potrebbero essere riassegnate e non è escluso che possono andare nel loro insieme proprio al consigliere subentrante Roberto Di Pasquale oltre alla convalida dell'elezione del consigliere Isernino durante la seduta sarà affrontata anche l'adesione al percorso partecipato di riutilizzo temporaneo dell'area ex ITR con il progetto Laboratorio Moda Molise all'ultimo punto il Consiglio Provinciale di Isernia sarà chiamato ad esprimersi sull'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di servizi legali della provincia di Isernia e del relativo schema disciplinare abbiamo sentito dei migranti che arrivano sono sempre in tanti decine, centinaia di migliaia c'è il rovescio della medaglia quello dei giovani che cercano lavoro anche loro in decine di migliaia e ci sono le offerte per un ritorno a un fenomeno di inizio novecento quello dell'immigrazione all'estero le opportunità che offre l'Eures in Germania ce ne parla Valeria Farina Vengono considerate occasioni di crescita e di esperienza professionale lavorare all'estero oggi rappresenta per molti giovani un trampolino di lancio in quello che è il difficile mondo del lavoro ma anche un'occasione per imparare la lingua e affinare conoscenze e abilità tante le mete i paesi pronti ad ospitare gli italiani dagli Stati Uniti all'Australia dall'Inghilterra al resto di Europa a tal proposito l'ufficio Eures dei servizi europei per l'impiego del Molise ha organizzato una tre giorni dal 3 al 5 maggio per presentare proposte di lavoro in Germania nei settori alberghiero, tecnico, sanitario, estetico e logistico durante le giornate europee del lavoro i giovani interessati potranno raccogliere informazioni sulla possibilità di lavorare in Germania fare colloqui con funzionari tedeschi e informarsi sullo stile di vita tedesco l'evento dal titolo Vivere e lavorare in Germania dà appuntamento il 3 maggio a Campobasso la mattina a partire dalle 11 al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute in Contrada Tappino e il pomeriggio dalle 15 alla Fondazione Giovanni Paolo II il 4 maggio dalle 9.30 all'Istituto Neuromed di Pozzilli e alle 16 di nuovo a Campobasso all'Agenzia regionale del lavoro mentre il 5 maggio appuntamento a Termoli dalle 10 all'Istituto Alberghiero Allarino vanno avanti le Olimpiadi della lingua italiana sono arrivate alla decima edizione centinaia di studenti provenienti da tante regioni si sono affrontati mettendo alla prova il proprio sapere sentiamo Fabrizio Occhionero Un evento cresciuto negli anni e un progetto lungimirante è diventato un punto di riferimento a livello nazionale 13 regioni rappresentate oltre 130 scuole partecipanti centinaia di alunni provenienti da istituti di ogni ordine e grado questi numeri delle Olimpiadi della lingua italiana giunti alla decima edizione la conferma di buone pratiche didattiche di un percorso di rete coordinato dal comitato scientifico che ha valorizzato il confronto tra le realtà e coinvolto con grande entusiasmo gli studenti alla prova tra conoscenze e competenze e un valido contributo formativo ci siamo prima allenati prima di venire alle semifinali e finali e i test erano abbastanza facili però in alcuni casi erano molto difficili perché noi non conoscevamo i termini che c'erano nelle schede le prove sono state abbastanza difficili e comunque non ci aspettavamo di passare addirittura in finale o di vincere pensavamo di fermarci comunque alle semifinali e è stata un'emozione grandissima scoprire di aver vinto l'iniziativa è stata promossa dall'Istituto Superiore di Larino e dall'Università del Molise con il patrocinio della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana dell'Ufficio Scolastico Regionale della Fondazione Lincei per la Scuola della Regione del Comune e il supporto di Molise Dati le Olimpiadi della lingua italiana si coltiva il sapere grammaticale ma problematizzandolo e quindi conferendogli una dimensione anche di lavoro di gruppo che consente di recuperare non solo di attribuire il giusto valore all'eccellenza ma di recuperare anche gli studenti che non sono particolarmente motivati il bilancio per noi del Comitato Scientifico importante da fare riguarda l'organizzazione del sillabo cioè dei contenuti su cui sono invitati a misurarsi gli studenti che partecipano che è stato incrementato nel tempo in particolare lo sforzo è stato quello di cercare attraverso le prove di mettere in campo le competenze degli studenti non soltanto nelle competenze ricettive o di riconoscimento delle categorie vale a dire nome, pronome, eccetera ma anche capacità di produrre quindi gli esercizi si sono nel tempo adattati a questa necessità si intitolava Nozze d'Autore l'evento organizzato a Passo di Mirabella in provincia di Benevento nella storica sede di Dotolo Mobili la seguita per noi Giuseppe Carriera si intitola Nozze d'Autore l'evento che ha richiamato a Passo di Mirabella nei saloni di Dotolo Mobili il pubblico delle grandi occasioni per tutta la giornata stand espositivi di tanti settori legati al matrimonio e alla casa si sono integrati negli spazi espositivi della storica azienda che ha accolto anche momenti di spettacolo comicità e moda un evento offerto gratuitamente a tanti visitatori provenienti da diverse regioni che è stato illustrato con entusiasmo dal giovane amministratore delegato dell'azienda di famiglia Antonio Dotolo il Molise è una terra che io ho nel cuore perché avendo trascorso 5 anni a Campobasso, all'università ho tantissimi amici molisani con i quali ho un rapporto fantastico e spero che sempre più visitatori da quella bellissima regione possano farci visita possono venirci a trovare ormai il design e la moda fanno parte di quello che è l'arredamento non siamo più in un contesto nel quale bisogna soltanto vendere il prodotto ma bisogna contestualizzarlo bisogna valorizzarlo bisogna argomentarlo e noi ci stiamo provando in tutti i modi abbiamo tante fra le prime aziende in Italia e il nostro logo che ormai sta diventando comunque un brand importante e cercheremo negli anni sempre più di dar valore a quella che è l'azienda che ormai opera da 40 anni sul territorio e a quelle che sono i marchi le nostre aziende all'interno dei vari showroom in giro per la Campania e per la Puglia eleganza, freschezza, colore idee nuove e quanto si respira attraversando gli spazi allestiti per l'occasione arricchiti da fiori pizzi, riflessi di luce e le modelle della Tordiglione Management che hanno splendidamente indossato le proposte moda di diverse firme e atelier frizzante e comunicativo Enzo Costanza nome di Zelig testimone della comicità campana elegante e raffinata la madrina e presentatrice della serata l'attrice Daniela Fazzolari nel cuore del grande pubblico televisivo come Anita di Cento Vetrine il ruolo che l'ha lanciata nel mondo della fiction italiana ma con un bagaglio di esperienze che spaziano da dare argento a tanti titoli di grande successo ma infatti io devo dire che questa è una formula innovativa e che funziona e quindi finalmente il pubblico e la sfilata o comunque lo spettacolo sono allo stesso piano cosa che oggigiorno credo che sia veramente la formula nuova e che funziona per cui sono felice sono felice che sia itinerante ciò vuol dire che ci sono questi spazi grandissimi da occupare con le modelle che sfileranno attraverso questa esposizione di mobili tra l'altro per cui insomma un connubio anche tra l'arte del mobile e quella della sposa fino a tardasera i riflettori di nozze d'autore hanno offerto uno spaccato a 360 gradi per sposi, casa e per tanti visitatori Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di stasera con Millibar la trasmissione condotta da Pasquale Di Bello alle 21 in diretta ci saranno il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca l'assessore all'urbanistica Pino Gallo e Antonio D'Ambrosio si parlerà del progetto di riqualificazione urbana della città è tutto per l'edizione delle 14 vi lascio alle previsioni del tempo ci ritroviamo tra poco più di mezz'ora per gli aggiornamenti grazie e a più tardi